Musica Precipitazioni piovose diffuse dalla notte sul Molise, neve dai 700 metri, in Burrasca e il mare Adriatico, le strade delle due province sono transitabili. Ricorso al Tribunale amministrativo da parte di alcune amministrazioni comunali che contestano i decreti di commissariamento per l'Egam. Il Comune di Venafra a breve otterrà risorse finanziarie per 900 mila euro per la messa in sicurezza dello stadio e la realizzazione di un palazzetto sportivo. Il vasto Girardi scenderà in campo alle 14.30 Giulianova nel primo turno della fase nazionale della Coppa Italia per le squadre di eccellenza. Buon pomeriggio, gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca a Sepino. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dei furti avvenuti nella notte all'interno di due bar del paese. I ladri, dopo aver forzato le saracinesche, si sono impossessati di soldi e slot machine. Il bottino si aggirerebbe attorno alle 6.000 euro. Freddo e neve a quote di montagna sulla regione. Il vortice depressionario sarà presente sul Mediterraneo ancora diversi giorni. Aria instabile e precipitazioni nevose a quote di montagna oltre i 700 metri oggi sul Molise. Le principali strade, provinciali e statali delle due province, sono sgombre perfettamente transitabili, anche per effetto dell'impiego di spargi sale e spartineve, scuole aperte questa mattina su tutto il territorio. La depressione climatica proseguirà a rimanere ancora nell'area del Mediterraneo meridionale, con conseguente temperature al di sotto della media stagionale. Nei prossimi giorni il tempo sul Molise resterà perturbato, con precipitazioni piovose anche molto abbondanti. Causa il mare molto mosso, con avviso di burrasca, la guardia costiera ha bloccato i collegamenti via Adriatico dal porto di Termoli alle isole Tremiti, per la motonave isola di Capraia e un marinaio diretto in Grecia su una nave commerciale in transito a poche miglia dal litorale molisano è stato soccorso e ricoverato in ospedale al Santimoteo a seguito di un malore ad attendere sulla banchina di Termoli l'uomo un'ambulanza del 118 che lo ha condotto con urgenza nel nosocomio della città per i controlli e le cure. Sono stati identificati e acciuffati dalle forze dell'ordine i due ragazzi che lunedì sera a Termoli avevano rapinato il supermercato Sigma di via Vittorio Emanuele due amici di già 7 e 18 anni con precedenti. La cattura da parte degli agenti di polizia è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso. Il misero bottino della rapina era stato di circa 250 euro. A Venafro invece i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pregiudicato campano per smaltimento illecito di rifiuti speciali. L'uomo aveva abbandonato su un terreno agricolo privato materiale inquinante provenienti da attività di demolizione di fabbricati. Quella della tutela ambientale rimane una priorità dell'arma dei carabinieri come testimoniano le numerose operazioni in corso. Passiamo adesso alla politica. Il giudice Vincenzo Di Giacomo, indicato da tempo come candidato ideale alla carica di Presidente della Regione, ha comunicato di non essere più disponibile a rappresentare la coalizione di centrodestra. La saggezza popolare è ormai riconosciuta quasi come una sorta di scienza esatta. Chi entra in conclave da futuro Papa, spesso e volentieri, se non sempre, ne esce cardinale. È il gioco di quel percorso che chiamiamo bruciare una candidatura. Succede spesso, soprattutto perché il gioco di anticipare un nome trova quasi sempre una qualche obiezione, una sorta di freddezza, una specie di presa di distanza. È quello che molto probabilmente è accaduto al giudice Vincenzo Di Giacomo che da alcuni mesi ha visto il suo nome circolare di lungo e largo indicato come il candidato più idoneo a rappresentare la coalizione di centrodestra per la contesa al nuovo presidente della Regione Molise. Un nome, il suo, sicuramente di buona razza, che avrebbe portato la competizione a livelli più alti, segnando davvero la più concreta possibilità a giocarsi il ruolo con chi avrebbe rappresentato la coalizione di centrosinistra, molto probabilmente il presidente uscente Paolo Di Laura Frattura. Il presidente del tribunale di Giacomo aveva in verità chiesto fin dal primo momento un'ampia convergenza sul suo nome, indicando egli stesso una disponibilità ad un solo mandato e con un programma condiviso da tutti e da realizzare. Evidentemente qualcosa non ha funzionato a dovere. Il richiamo da parte sua all'impegno concreto sul suo nome non ha prodotto l'indirizzo sperato ed anzi ha dovuto incassare più di qualche effreddezza e una sorta di perplessità, forse dettata più dagli appetiti personali dei vari personaggi della politica molisana che dalla scelta di costruire una vera e propria alternativa di nomi, di indirizzi e soprattutto di soluzioni ai problemi. Arriva molto probabilmente da qui la nota del giudice, che con poche stringatissime e chiarissime frasi ha deciso di sfilare il suo nome dalle indicazioni del popolo del centrodestra. Non ritengo, infatti scrive riferendosi alla presidenza della regione, che vi siano state e ne vi siano le condizioni per le quali io abbia potuto o possa prendere in considerazione una eventuale candidatura. Intanto in relazione alla scelta del giudice Di Giacomo di declinare l'invito a rappresentare il centrodestra, intervengono i dirigenti del Movimento Creare Futuro. Pensavamo e pensiamo ancora, affermano che la candidatura del giudice Di Giacomo rappresenti ciò di cui i molisani hanno bisogno e per questo sperano ancora che possa cambiare idea. L'undicesima legislatura in Consiglio regionale a Campobasso e agli Goccioli, la sua scadenza naturale fissata al termine di questa settimana, domenica 25, la giunta regionale di Via Genova resterà in carica fino alle prossime elezioni di aprile, ma solo per adempiere all'ordinaria amministrazione. Cambiamo argomento. Alcuni sindaci tornano a contestare i decreti di commissariamento del Presidente della Regione per l'adesione all'EGAM. Considerando tale commissariamento illegittimo, hanno affidato le loro ragioni ad un ricorso al Tribunale amministrativo. Tornano i contrasti relativi alla istituzione dell'EGAM. I sindaci dei comuni di Campo di Pietra, Civitanova del Sannio, Pietra Bontande, Belmonte del Sannio, Rocca Mandolfi, Acquaviva di Sernia, Campo Chiaro e Dagnone, dopo aver ottenuto con sentenze del Tar Molise numero 5 e 6 del 2017 l'annullamento della delibera di giunta regionale che istituiva appunto l'ente di governo dell'ambito del Molise e dei successivi decreti di commissariamento sono impegnati oggi a contrastare quello che considerano un atto di forza da parte della Regione Molise che ha innescato per la seconda volta un grave conflitto istituzionale a danno degli enti locali e della popolazione. Un vero e proprio nuovo contenzioso istituzionale tra alcuni comuni e Regione dove i comuni attraverso i loro sindaci contestano i decreti di commissariamento per quella che sono sicuri è un'adesione forzata un atto che viola l'autonomia degli stessi comuni che avevano scelto di non aderire all'EGAM considerandolo un ente costituito illegalmente. Per questi sindaci la Regione non ha previsto i costi gestionali dell'ente e non ha dettato gli indirizzi per garantire la futura gestione autonoma da parte degli stessi comuni. Perciò hanno deciso di dare mandato ad alcuni legali gli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano che avevano già assistito i comuni nella prima fase quella che aveva ottenuto gli annullamenti di tutelare anche in questa seconda e nuova fase le loro ragioni attraverso un nuovo ricorso presso il Tar Molise. Oggi pomeriggio a Larino ci sarà la presentazione agli elettori dei candidati alla Camera di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione e Nicola Cavaliere l'evento in programma alle ore 18 all'Hotel Campitelli allo scopo di approfondire le tematiche che riguardano il presente e il futuro del comprensorio frentano e sempre alle ore 18 ma al municipio di Guglionesi ci sarà la presentazione alla cittadinanza dei candidati della lista Libere e Uguali e del programma elettorale per il voto nazionale. Sono previsti gli interventi di Danilo Leva Gianmaria Palmieri, Giuseppina Occhionero Nicola Palombo, Oreste Campopiano e Michele Durante Rilancio industriale e occupazione per le acque e minerali Castellina e Santa Croce le sorgenti molisane forniscono purezza e qualità Le acque e minerali Castellina e Santa Croce sono vendute in tutta Italia nelle catene alimentari della grossa distribuzione commerciale Per il rilancio dell'azienda e l'acquisto di nuovi macchinari la società ha ottenuto 10 milioni di finanziamenti e il rinnovo della concessione delle sorgenti di Castelpizzuto Oggi abbiamo una regolare concessione rinnovata per i prossimi anni che ci garantisce la possibilità di fare grossi investimenti in termini tecnologici e di essere competitivi sul mercato delle acque minerali considerando che abbiamo una delle fonti più importanti con un marchio molto importante i due marchi sia Castellina che Sorgente e Santa Croce che vengono imbottigliati in questo stabilimento di Castelpizzuto in provincia di Sernia e che ci permetterà di creare nuove occupazioni il rilancio dell'azienda e quest'anno veramente ci sarà tanto da lavorare e tanto da fare Noi forniamo tutte le settimane acqua minerale in Vaticano in quanto è stata riconosciuta tra le acque più buone in termini di equilibri e in termini di salute siamo tra dei fornitori storici del Vaticano e continuiamo ad averli tra l'altro continuiamo a questo settore è un settore ancora molto delicato molto difficile anche perché abbiamo delle competizioni sia con grossi investimenti verranno investiti oltre i 10 milioni di euro sulla Castellina per gli ampliamenti e per nuove macchine tecnologicamente e siamo anche grazie alla Regione devo dire alla legge nazionale stiamo beneficiando di quest'area di crisi complessa abbiamo fatto un bando abbiamo partecipato e siamo in attesa dell'esito di queste cose però gli investimenti sono già avviati e programmati che la legge lo consente e quindi ci permetterà di già di sfruttare macchine nuove già da maggio prossimo delle macchine che sono veramente grandi tecnologiche, moderne che danno qualità, sicurezza e affidabilità nel produrre in bottigliare acqua minerale abbiamo un obiettivo di fondere 200 milioni di bottiglie su tutto il mercato abbiamo i clienti più importanti d'Italia Coop, Conad grandi e grossi distributori eccetera per cui riusciamo veramente a competere ma proprio grazie alla qualità prioritariamente la qualità del prodotto non a caso altro consumo anche quest'anno siamo stati selezionati tra i primi con l'acqua Santa Croce basta andare su internet anche perché il cliente adesso il consumatore è molto attento e quindi guarda molto alle qualità le caratteristiche contenute nell'acqua oggi il problema più grosso è quello dell'inguinamento l'acqua minerale da bere è quella naturale non quella gassata perché l'acqua gassata accumula negli anni nel corpo delle quantità di anidride carbonica che il corpo non riesce a smaltire e il corpo e le cellule vivono di ossigeno e non di anidride carbonica i primi cantieri forestali aperti oggi dall'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo in Molise sono quelli di Guardia Alfiera Casa Calenda Pesche e Miranda per garantire continuità occupazionale gli oltre 150 operai sono contrattualizzati da 4 anni per un numero complessivo di 151 giornate lavorative da febbraio a novembre nelle sale del municipio di Monte Falcone del Sannio è previsto nel pomeriggio di oggi un confronto sulle aree interne tra crisi e rinascita sociale dei paesi montani una iniziativa sostenuta dall'Università degli Studi del Molise e da Aria tra gli altri sono stati invitati i docenti dell'Ateneo Rossano Pazzagli e Stefano Panunzi due conferenze pomeridiane oggi a Campobasso all'Istituto Scolastico Leopoldo Pirla si parlerà di transumanze pastorali e patrimoni bioculturali il secondo riguarderà Palazzo San Giorgio la regolamentazione dell'accesso alle professioni dei beni culturali entrambi gli appuntamenti alle ore 17 Pratica e diffusione di attività motorie il Comune di Venafro ha ottenuto dal Patto per il Molise un'engente somma per la realizzazione di due progetti sportivi Nel giro di pochi mesi giungeranno nelle casse del Comune di Venafro le risorse finanziarie per la realizzazione di due progetti sportivi il primo riguardante l'adeguamento dello Stadio Marchese del Prete il secondo un palazzetto multifunzionale per la pratica di più discipline in itinere ci sono 900.000 euro Il progetto presentato dal Comune riguarda il rifacimento del campo di calcio il campo del Prete e anche l'adeguamento e la messa in sicurezza del campo e invece il progetto della provincia riguarda una struttura polifunzionale una specie di palazzetto dello sport una novità assoluta per Venafro unica area probabilmente del Molise dove manca una struttura del genere e quindi un palazzetto una struttura multifunzionale da realizzare vicino nei pressi della piscina già di proprietà della provincia circa 300.000 euro per quanto riguarda il rifacimento del campo sportivo e 600.000 euro per la realizzazione di questa struttura multifunzionale di questo palazzetto il resto delle cifre prevede un confinanziamento da parte dell'ente che per il comune di Venafro è di 150.000 euro per la provincia invece di 500.000 euro fondi già a disposizione per dei lavori precedenti che non sono stati realizzati noi prevediamo tempi più brevi per la realizzazione dei lavori per fare il bando di gara per il rifacimento del campo sportivo perché anche a livello burocratico è più semplice per quanto riguarda la realizzazione della struttura multifunzionale prevediamo tempi appena più lunghi dovuti anche alla risoluzione di alcuni problemi burocratici fra la proprietà del terreno e la provincia e anche proprio all'espletazione di tutte le documentazioni necessarie per poter realizzare il bando Anche l'amministrazione comunale di Roccavivara ha ottenuto dalla regione un cospicuo finanziamento per il rifacimento del campo di calcio con manto in erba sintetica le risorse economiche sono di poco inferiore il mezzo milione di euro fondi che permetteranno di fruire di un impianto sportivo adeguato e moderno insieme alla presenza dell'attiguo palazzetto dello sport e siamo adesso alle previsioni del tempo Coperto con piogge diffuse nella prima parte di oggi sul Molise attenuazione delle precipitazioni dalla sera le temperature sono comprese tra i 2 gradi la minima di Campobasso e la massima di 8 gradi a termoli ventilazione debole variabile mosso il mare adriatico domattina sulla regione il cielo si presenterà ancora molto nuvoloso valori climatici in rialzo venti meridionali calcio nella nostra pagina sportiva è tornato al successo è tornato al successo prepotentemente il Campobasso sul terreno abruzzese del San Nicolò tre punti per continuare a sperare nella zona playoff del campionato di Serie D mister una sconfitta brutta pesante eppure il San Nicolò nel secondo tempo aveva messo sotto il Campobasso almeno nei primi venti minuti poi che cosa è accaduto? ma io non direi che abbiamo messo sotto soltanto nei primi venti minuti io direi che abbiamo fatto una gran bella partita siamo andati sotto su una palla inattiva abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco per tutto il primo tempo e abbiamo raggiunto meritanemente il pareggio addirittura siamo andati in vantaggio tenendo sempre il pallino del gioco purtroppo oggi gli episodi ci sono venuti contro su due palle inattive abbiamo preso gol non abbiamo mai preso gol su sei partite contro una squadra forte onore a loro però la squadra mi è piaciuta perché è stata in partita per tutti i 95 minuti la differenza di classifica non si è notata in campo ha detto bene lei nel primo tempo un buon San Nicolò bene anche nell'inizio della ripresa però un San Nicolò tradito dagli errori personali ma errori come dicevo prima sono episodi gli episodi nel calcio ci stanno avevamo la palla per chiudere la partita sul 2 a 1 andavamo 3 a 1 purtroppo ha fatto una gran parata del portiere va così ci sta bisogna accettare il verdetto del campo ma con questo spirito e con questo modo di giocare secondo me andremo lontano dopo le ultime due partite qualsiasi fischio un po' così noi pensiamo che tutti ce l'hanno con noi la realtà non è questa la realtà è che ci sono gli errori da una parte e dall'altra per cui ci siamo innervositi sul calcio di rigore anche perché prima secondo me ce ne potevano essere anche altri 4 2 per loro e 2 per noi quindi ci siamo sentiti un po' vittime di quel fischio però ripeto più che altro per quello che era successo nelle ultime due domeniche mister avete protestato però dopo l'esecuzione del calcio di rigore perché? perché secondo me erano passati due minuti di recupero per cui secondo me non ci doveva essere ribattuta il calcio di rigore termina sulla parata del portiere non ci può essere ribattuta perché per me i due minuti erano passati però l'arbitro ha fatto poi ribattere quindi secondo lui ha detto che è passato un altro minuto prima dell'esecuzione del rigore che andava andava recuperato di conseguenza giustamente ha fatto giocare altri 30 secondi solo per quello Giulianova Vasto Girardi di questo pomeriggio è il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di elettanti stiamo parlando ancora di calcio le due formazioni sono state inserite nel girone F della manifestazione tricolore fischio d'inizio alle ore 14.30 quindi fra pochissimi minuti arbitra Francesco Esposito di Torre annunziata con questa notizia è veramente tutto grazie per la visione e per l'ascolto a risentirci a questa sera grazie a tutti 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 grazie a tutti